Consideriamo due spostamenti consecutivi che abbiano la stessa direzione. Ipotizziamo quindi un primo spostamento di 6 metri e poi uno di 4 metri. Sommando i due spostamenti aventi la stessa direzione e lo stesso verso, si ottiene uno spostamento nella stessa direzione e nello stesso verso, con modulo uguale alla somma dei moduli. Allo stesso modo, la somma di due spostamenti aventi uguale direzione ma verso opposto è uno spostamento nella stessa direzione che ha il verso dello spostamento di modulo maggiore e il modulo uguale alla differenza dei due moduli. Se invece consideriamo spostamenti consecutivi che non hanno la stessa direzione, l'effetto complessivo dei due spostamenti è lo spostamento risultante OB, espresso dall'equazione vettoriale OB uguale OA più AB. In questo caso, per eseguire la somma degli spostamenti si applica il metodo punta-coda, secondo cui, lo spostamento OB uguale OA più AB è rappresentato dal segmento orientato che ha il primo estremo coincidente con la coda di OA e il secondo estremo coincidente con la punta di AB. Esiste un'altra regola per calcolare la somma di due spostamenti, la regola del parallelogramma. Rappresentati i due vettori spostamento S1 ed S2 a partire da una stessa origine O, spostando il vettore S2 parallelamente a se stesso fino a far coincidere la sua coda con quella di S1, il vettore risultante S uguale S1 più S2 è dato dalla diagonale del parallelogramma costruito sui vettori S1 ed S2 orientata da O verso il vertice opposto del parallelogramma. Quindi, se gli spostamenti hanno stessa direzione, abbiamo due casi. Se hanno anche stesso verso, il modulo della somma è pari alla somma degli spostamenti. Se hanno versi diversi, è pari alla differenza. Nel caso in cui gli spostamenti abbiano direzioni diverse, la situazione è quella dei lati di un triangolo e quindi il modulo della somma A sarà sempre maggiore della differenza fra B e C e sempre minore della loro somma. Grazie a tutti.